Le politiche agricole comunitarie sono una risorsa importante e spesso l'unica fonte di sostentamento di molte aziende agricole. La comunità europea ha approvato la nuova riforma grazie alla quale nella regione Marche arriveranno 1,5 milioni di euro in sette anni. Un'iniezione di liquidità importante che non deve perdersi nei meandri della burocrazia e che le aziende e gli imprenditori agricoli devono poter sfruttare al meglio. Ma spesso la burocrazia rappresenta un forte ostacolo allo sviluppo delle aziende agricole e le nuove normative della politica economica europea spesso sono complesse e articolate e non facilitano il compito degli agricoltori per accedere a questi fondi. Se ne è parlato in un convegno pubblico organizzato da CIA, Marche, Confagricoltura e Copagri presso la sede della Camera di Commercio di Pesero e Urbino dal titolo Quale opportunità per l'impresa agricola tra nuova PAC e burocrazia. La PAC rispetto alla situazione di mercato che c'è oggi, rispetto ai sistemi di mercato, resta un elemento indispensabile per mantenere l'agricoltore all'interno del territorio. Noi abbiamo credo delle esigenze importanti, le esigenze più importanti sono quelle di mantenere l'agricoltore in modo particolare nei luoghi montani dove è molto più difficile far reddito ma dove anche si vive peggio per tanti servizi che vengono a mancare. L'appello mandato agli enti pubblici e alla Regione Marche è chiaro quindi, meno burocrazia e regole chiare perché per un agricoltore meno burocrazia significa meno tempo in ufficio e più tempo nei campi.